Raga, fermi! Raga, fermi! No, raga, lo volevo sniperare, cazzo, lo volevo cecchinare! Minchia, ho finito il colpo, raga! Ho finito le munizioni del cecco! Ma Dio! Minchia, raga, non ho munizioni del cecco, proprio non ne ho! Vai, zzzzz! Eh, sto cercando delle munizioni per il cecco! Sono, sono nella foresta qua di fianco, però sto arrivando, sto cercando munizioni per il cecco! Porca troia! Dov'è che è? Dov'è che è? Da dove ti ho sparato? Cazzo! Minchia, due sono! No, raga, in aria! No! No, raga, in aria! Porco Dio! Vabbè, raga, uno l'ho ammazzato! Ah, io pure! Come Gesùs! E quello su viene! Sì, no, era la mitraglietta, Gabriele faceva chiaccare praticamente! Non era la mitraglietta tattica, ma... La mitraglietta tattica, raga, è quella potente! Minchia, quella che leva tanto! Bam! Minchia, il volo l'ho preso! Dove hai? No, 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 no! Anarchia, acres, raga, anarchia, acres! Anzi no, anzi no! Eh, sì dai, anarchia, acres, anarchia, acres, mi butto ora! Dio, caro! No, no, anarchia, acres, sfidati! Sì! 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 A puttana neva, David! Mi piace! Mi ha già mangiato, sto carino! Sì! Raga, c'è tantissima gente! Raga, c'è tantissima gente! Raga, corro! Raga, corro! Minchia, addio, raga, siamo morti! Raga, siamo morti! Raga, siamo morti! Ma neanche! Raga, ho il cecco! Raga, ho il cecco! Raga, ho sette colpi di cecazzo! Raga, ho sette colpi di cecazzo! Cazzo! Raga, toglietemi dai coglioni! L'ho preso io! Non c'è dentro un cazzo! Ah no, ma raga, non l'ho trovato! Raga, mirate al cancellone! Raga, mirate al cancellone! Che se entra uno, spariamo il culo! Sì! Raga, mirate! Minchia... Cazzo! Eh, questo è un problema! Minchia, vengo a coprire! Non puoi dire! Non puoi dire! Dove... Facciamo prima, fai prima! Facciamo perché che sono morti! Ah, raga, fermi, fermi! Non ci spuglio pure! Raga, c'è anche un ci spuglio! Non fermi, non fate niente! Gliel'ho lanciata io Oh figlio di troia No raga come cazzo ha fatto a prendermi David abbassati Mettiti qua dietro al fieno David mettiti qua David dove cazzo vai mettiti qua Ricurami Minchia Gabri devi venire su Ecco siamo morti Abbassati 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 Eh raga loro sono in quattro Dio Ditemi quando morite Dimmi papà arrivo ragazzi Un attimo Dove sei? Eh non prende da quando vai Quanto lo sta E' po' Grazie. Eccomi raga, siete che fatti male? Sì è un bug, va bene è un bug, raga, M***a vorrei, Grisigrove, no raga è troppo vicino al click, no perché ci passiamo quasi sopra, Non ci va nessuno, fidati, proviamo, cioè tanto non la vinciamo, cioè almeno noi tre da soli non la vinciamo. Raga è ovest, cioè a v255. E cioè io mi butto direttamente, cioè non apro mai il paracadute. Se io mi butto prima diciamo. Raga, torniamo in sta casa qua, prendiamo qualcosa e andiamo verso Grisigrove. Eh, non c'è niente fra... Raga, io vado verso Grisi. Non c'ho un cazzo, un'arma sola c'ho. Non c'ho un cazzo, un cazzo, un cazzo. Sto entrando in una casa. Raga, c'è una revolver. Sì c'era una revolver lì. Il mio cane, il mio cane si struscia sul pavimento. Il mio cane si struscia sul pavimento. No, no, ora, ora mi ragà, vai te, andate dentro Sì, minchia, ho sfondato mezza casa per cercarlo Eh, minchia, non ho armi, due ne ho No, ho sbagliato, ok Raga, andiamo, sento che la gente si vuole male Questa casa qua è bucata, raga, vuol dire che c'è stato uno Raga, usciamo, venite, sul tetto Raga, 300, raga, 300, in una casa 300 ho visto gente In una casa 300 Raga, nella casa 300 barra nv, visto uno Raga, c'è gente qui dentro Raga, c'è gente qui dentro Sì Qui Raga Raga, terra Minchia Un attimo, David, che ho pochissima vita No, raga, minchia, mi ha ucciso pure me, da dietro, il figlio di Troia Raga, da dietro è arrivato il figlio di Troia Ha fatto il giro Oh, vedi che Gabriel sta imparando, eh Frate, sei grande Sì, ma raga, da dietro è arrivato Ha fatto la barricata lì per farci credere E poi è arrivato da dietro il Troia Sì, anch'io, raga, sono due Sì, anch'io no 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 a tomato town una volta david c'ha ragione raga per una volta david ha ragione a tomato andiamo no eh ma come dammelo a me che sono io il più pro a usare il cecchino minchia fa il coglione è il buffo appunto che dice dammi il cecchino che non sa neanche usarlo su fortnite ora no to metti un po di scudo zio no raga andiamo qui in casa raga andiamo verso la casa micchia come la casa del cazzo se ci sono sempre due cesto al a a a a a a a a a raga un fucile per voi raga ho trovato un fucile bellissimo se lo ammazzi riskill ban mongoloide no non è che ti fanno danno riskill ban sai cosa vuol dire gabry che non puoi più giocare a fortnite e ci seguo per stare in team minchia immaginati che lui incontra un team da quattro persone viene attaccato da quattro persone contemporaneamente muore e noi non ci siamo è qui siamo raga raga andiamo verso anarchy aquas andiamo verso la raga andiamo verso anarchy aquas minchia 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 eh si lo so david non parlare con w2b minchia non ti può sentire dai basta per piacere e se lo chiami cazzo dice w2b vieni qui e poi ti segue e poi dici che cazzo mi segui ma la vecchia che arriva si ma raga raga vedo uno mi faccio una barricata ragazzi state nascosti combatto contro di lui raga combatto contro di lui no no minchia mi ha preso raga qualcuno serve che lo gira raga lo giro io voi combattete raga merda da dove raga raga ma io secondo te mi lascio sparare come un coglione raga l'ho fregato no no raga mi ha sparato malissimo no perché raga quando siamo tutti a terra e spara l'ultimo moriamo tutti papà papà io ho fame david non può esserci w2b porco di yet no gabrie allora tu dammi una ragione per cui non dovrei ammazzarlo nel prossimo round no no a david no dammi una ragione per non ammazzarlo no perché tu sei in team gabrie l'ho mutato io lo butto a terra lo sai dopo lo butto a terra poi lo rianimiamo no bravo gabrie vedi che inizia a capire ma perché ti butti quando si butta il coglione no gabrie minchia quando si butta quando si è buttato il coglione david si è buttato con lui perché meglio perché v2b ma che forte ha fatto cagare tutta la partita raga pompa blu quello lì chi raga vedo some people vedo un po' di gente e se ci muori noi siamo contenti eh ricordati si ma ricordati che se ci muori siamo contenti raga dov'è il trojo raga dov'è raga dov'è ve lo dite quello che avete visto raga 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 minchia da dietro raga da dietro eh c'è c'è cazzo cazzo raga cazzo siete bravissimi c'è il vostro tempismo è qualcosa di incredibile state il tempo a litigare state ma che cazzo minchia ha litigato e non pensato a stare con me vicino a me è sul tetto è sul tetto il troja raga è sul tetto vai raga andate a ucciderli vieni qui il mio piccolino raga io sto facendo delle coccole al mio cane vero drake vero drake vero drake no drake però il telefono no drake vero che sei bravo tu drake no 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 non mi devi uccidere vabbè che gara va il migliore è stato wavy blake che ha ucciso uno minchia male l'ha ucciso se voi non lo sapete come l'ha ucciso il troja seduto 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 piccolino che arriva il trenino puf 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 dal trenino i miei amici ed io ci buttiamo per andare a grisi grove o a tometo noi noi andiamo buttandoci dal bus troveremo armi e faremo tanti bei culi noi facciamo tanti culi noi siamo il team troja no po raga grisi grove grizi grove raga grisi grove I miei amici ed io ci buttiamo da quel bus di nome Vinderbus Verso Tometo oppure a Grizzigroup Troveremo armi per fare guli I miei amici ci buttiamo dal bus Il suo nome è Vinderbus Noi andiamo per Tometo e Grizzigroup Uccidiamo tutti quanti con le armi che troviamo Ragazzi noi uccidiamo tutti quanti quelli che troviamo in giro per la città Sì raga Questo è un glitch No no è un bug Raga qui dentro c'è entrato qualcuno No c'è qualcuno L'ho buttato giù Minchia Tommy Coprimi E to Davide Eh minchia frate non ho un cazzo Eh sono qui Minchia andiamo 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 Gabri sono qua Gabri sono qua non ti preoccupare sono qui Ah to' Gabri Ah la prendo io Aspetta 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 To' C'è uno c'è uno c'è uno c'è uno c'è uno occhio occhio Raga fumogena Gabri lancia la fumogena E andiamo Inchia raga Gabri mi ha preso Non so come ha fatto ma mi ha preso No Gabri mi vedeva Ma Gabri mi hai ucciso tu Ma non dovevi sparare la merda Minchia hai ucciso me Hai sparato a me Quella lì è la mia roba C'è scritto eliminato da Gabri Eh ma minchia se non vedi non sparare no Andate ad aiutarlo vai ad aiutarlo Gabri Intanto c'hai un bel drop Minchia Addio David Addio David Tanto io lo sapevo che doveva morire così Gabri Perché lui manco farsi le barricate Ma va Non tu Gabri David Che minchia Non rialmi lì con la porta aperta Con il muro dietro aperto Manco far la barricata Ah no guarda E allora Papà sto creepando di fame io Sì ma se che sono pronto No 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 Io preferisco ammazzarmi da solo Piuttosto che farmi reanimare da David Te lo dico Raga 3.018 Raga 3.018 Vabbè dopo questa è finita siiiip ah si ok raga prima deve partire il bus quindi cos'è che vuoi avoggiare? un double cheese plane e un toast vado a prigione no non si è buttata dove cazzo vai? che cazzo dici? vai ora la troia ci sta seguendo raga la troia ci sta seguendo dopo gliela lecco io ah 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 si quella lì è già nel 3.018 ma se fuori non posso non aprire anzi non rispondo neanche si boh raga c'è uno raga c'è uno eh uccidetelo picchiatelo picchiatelo a sangue picchiatelo a sangue picchiatelo a sangue picchiatelo a sangue sparategli in faccia fate qualcosa basta che quello muore raga lo vedo raga I see him raga vedo il troia raga l'ho buttato a terra raga l'ho buttato a terra raga minchia c'è giro togliti 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 gira no dai minchia lascia me lo ti prego non ho munizioni di niente ti prego dai to ti do ti do questa vabbè dai to te lo do te lo do tieni basta che mi dai la mitraglietta cazzo mene dammi freccia su triangolo sull'arma che vuoi buttare david me lo dai david mi dai fucile d'assalto per piacere dammi fucile d'assalto la mitraglietta e il vampa fucile e questo dammi fucile d'assalto e li devi prendere zio cioè non li puoi mettere tu non li puoi mettere tu li devi prendere aha non lo so raga sto facendo i giri raga io due sai raga andiamo verso Fatal Fields dammelo a me David si dai andiamo verso Fatal Fields eh vieni sono qua sono venuto a prendere buttati 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 dai segui Gabri segui Gabri dove cazzo vai eh si tu dai raga andiamo verso Fatal Fields Elisabeth è morta Gabri 2.10 c'è il palloncino SV raga sto entrando in una casa non molto sicura no raga non c'è un cazzo qui no raga non c'è un cazzo andiamo andiamo verso Fatal Fields che avevo visto il palloncino io cioè il layer drop no 2.10 raga 2.10 palloncino raga fucile viola è un fucile d'assalto con mirino raga 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 cumplitemi vi prego raga state vicino state vicino raga state vicini eh si è là è eh lo so infatti è lì il palloncino raga abbassatevi raga abbassatevi raga abbassatevi guarda col cecchino se c'è gente fermi eh fermi Gabri fermo no non sparare non sparare non sparare coglione non sparare allora per il momento non vedo nessuno c'è dentro c'è dentro armi non sparare non sparare lo apro raga lo apro raga c'è uno scudo chi cazzo lo vuole e minchia uno ce n'era David Gabri 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 sei pronto Gabri sei pronto Gabri vieni qua minchia ti sto dando un'arma potentissima perché io ne ho uno leggendario di cecco però non è quello e quello avevo zio a lui l'ho detto perché lui è più bravo minchia io sono raro minchia raga sparano minchia Gabri mi hai preso ma perché quando mi spari mi prendi minchia no c'ho ancora 81 di vita non mi serve eh stai più attento fermo qua c'è una cesta aprila merda dammi un po' di bende raga allora a me servono materiali urgenti david non mi rompere le cose che sto rompendo io minchia che mi dà meno materiali se rompi anche tu dammi il mattone raga datemi i mattoni e dammi dammi zio dammi dammi tutto fa niente tutto serve tutto serve e dammi tutto serve dai va bene ok dai possiamo andare 184 di pietra 83 di ferro 91 di legno e minchia si lo abbiamo notato allora problemi no quindi possiamo andare come entriamo nella tempesta che ha preso impazzito minchia ci entriamo ci buttiamo dentro noi siamo nel cerchio zio no 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 non in acqua zii più pericoloso ecco bravo in caso di pericolo costruisco un fortino al volo raga fermi vediamo raga fermi vediamo dove si restringe la safe fermi fermi vediamo si un attimo no 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 fermo 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 non andare minchia è pericoloso boh no però non andiamo raga non andiamo si un attimo un attimo devo salire su sta montagna bene e prendermi questa raga è atterrato e per il momento no minchia raga mi sto cagando addosso adesso lo prendiamo e moriamo qui questa è la nostra fine raga raga lancia cazzi chi lo vuole se lo prende lo prendo io raga e lo suusare bene lo suusare bene fidati raga nella casa a 345 raga raga venite qua raga venite qua venite qua venite qua 345 nella casetta ho visto qualcosa raga venite sotto il portico non fatemi vedere da nessuno però vieni vieni qua sotto vieni qua sotto vieni qua sotto gabrie dove cazzo vai gabrie vieni qua dove minchia vai sotto il ponte sotto il ponte abbassati vieni abbassati non sparate qui sotto perché potete rompere tutto non mettetevi davanti al campo visivo di qualcuno perché possiamo spararci a vicenda quindi david tu copri a destra raga io sto al centro non sparate però da qui sotto non sparate da qui sotto perché qua ci possiamo morire di lanciare una granata moriamo perché nell'acqua ci muoviamo lenti aspettiamo che la tempesta si restringe e vediamo poi cosa succede raga dovete stare fermi raga fermi david non ti muovere minchia secondo me perdiamo per colpa di david che fa bordello sì ma non muovetevi troppo perché tanto si sente quando il personaggio si gira no calmo minchia andiamo a 3.45 è rischioso minchia cioè proprio detta così raga c'è il palloncino però non lo prendiamo questo e non lo so però non lo prendiamo questo sì sì no poi vi dico io raga fidatevi che io so giocare bene a fortnite no raga zitti david devi stare zitto raga fermi qua fermi non muovetevi mai calmo vi dico io quando andare avanti se david non è un coglione e ha detto la verità c'è qualcuno no non cambiare arma non cambiare arma zio perché si sente quando ricarichi e no dico a david perché ha fatto triangolo c'è r1 un attimo calmo 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 quando la tempesta vedete che c'è l'un minuto vedete quando arriva a 20 secondi normali noi andiamo anzi no a 15 tanto ce la facciamo no 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 15 raga fidatevi perché a 20 ci possono sgamare minchia raga mi sto cagando addosso voi lo sapete no io mi sto cagando addosso perché cioè tanto sappiamo tutti che non la vinciamo questa però siamo arrivati a questo punto minchia raga siamo in 5 andiamo vai 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 si ragazzi mettete qua raga mettete qua minchia raga che caga faccio io 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 no no fermo qua basta raga qua raga qua qua controllate dalla finestra io controllo dall'altra no no dammi 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 Ragazzi abbiamo qua di fianco l'aerdrop eh Fermi Non andiamo a prenderlo perché E appunto Appunto David stai fermo perché ti sparo se vai eh Perché è una trappola Il gioco lo mette lì apposta Ho costruito già una porta No no guarda vieni qua ho costruito già una porta Vieni No no raga qua qua Ho costruito già una porta No aspetta 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 No 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 che è a 60 raga Quando il tempo arriva a 10 Noi andiamo capito A 10 Si tanto è qua di fianco la safe zone No a 10 fidati A 10 minchia che problema c'è No fermo Minchia sei un coglione Vabbè andiamo Raga sono qui nel fienile loro Per forza Raga venite qua nel fienile No Raga salite su Abbassatevi come pazzi Raga l'ho visto Raga li vedo Raga li vedo Minchia raga mi hanno preso Mi hanno preso figa Mi hanno preso Raga mi hanno preso Mi hanno preso con l'RTG Gabri spara gli vai Gabri vai Eh raga no David David devi scappare Hanno vinto Secondi Raga hanno aspettato il momento ideale Per venirci a smitragliare con l'RTG Loro ci avevano visti Raga loro ci avevano visti Sti stronzi Hanno aspettato Vabbè dai E' stata bella anche questa Questa la metto su youtube Bella raga Grazie 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 Grazie